salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video finalmente è arrivato per tutti i possessori parot una versione modificata dell'applicazione freefly 6 modificata cosa vuol dire vuol dire che ci permette di mantenere in modalità fcc il nostro parot anafi ovviamente ragazzi questo diciamo questa applicazione è disponibile o meglio questa versione modificata dell'applicazione è disponibile solo per android però è già un qualcosa ovviamente vi lascerò in descrizione il link di dove scaricare questa pk per installare questa freefly 6 adesso vi spiego cosa dovete fare però per installarla quindi ragazzi allora per prima cosa dovete avere portato il parot anafi modalità fcc con la procedura quella che si è utilizzata fino adesso usando fake gps o chi per esso comunque con una procedura che c'è stata fin adesso io ci ho fatto anche un video magari ve lo lascio qui in alto nelle schede sono mi ricordo mai dove sono le schede di qua di qua vabbè vi lascio nelle schede il video che avevo fatto comunque lo portate in fcc vi ricordo ragazzi che per vedere se il vostro parot anafi è in fcc ragazzi basta che andate nelle impostazioni sempre di freefly 6 andate dove c'è rete e dove avete 2,4 giga e 5,8 adesso allo stato attuale vi accorgete se siete in fcc perché nelle 5,8 avete anche le frequenze 36 40 44 48 queste quattro frequenze le avete solo se siete in fcc quindi se non avete queste quattro frequenze visibili vuol dire che non siete in fcc ok quindi ragazzi ricapitoliamo portate il parot anafi in fcc come avete fatto fino adesso quindi lo spegnete e lui è stato spento in fcc a questo punto cosa dovete fare disinstallate l'applicazione freefly 6 che avete installato nel vostro smartphone la disinstallate la rimuovete completamente una volta rimossa installate la pk dal link che vi lascio in descrizione installate la pk ma per installare la pk dovete fare un passaggio allora per prima cosa dovete andare su play store ok un aprite il vostro play store andate in alto sulle tre barrette che vi fanno accedere al menu andate in su play protect e dovete assicurarvi di non avere vedete che io sia cerca minaccia la sicurezza non è sflegato ecco dovete lasciarlo così non deve essere sflegato se quello è sflegato quindi è verde poche parole così non va bene dovete averlo grigetto perché se no non vi fa installare l'applicazione o meglio la pk che andrete ad installare quindi questo passaggio è importante se no vi dirà che è impossibile installare l'applicazione quindi una volta che avete fatto questo passaggio semplicissimo andate ad installare la vostra apk la installate e siete a posto adesso il vostro parotanafi quando andrete aprire la freefly 6 sarà sempre in fcc nel senso che anche se avete attivato il gps il traffico dati il wifi lui rimarrà sempre in fcc non c'è più bisogno di disattivare il gps prima di decollare cioè tutti questi passaggi che servivano per mantenere il parotanafi in fcc allo stato attuale ragazzi funziona l'ho provata e funziona perlomeno poi dopo non so se c'è problemi da uno smartphone all'altro perché sapete che comunque con android essendoci mille marche mille versioni di sistema operativo mille di su mille di giù non so se funziona con tutti o meno nel mio caso che è uno xiaomi redmi note 5 funziona benissimo ovviamente ragazzi per ios invece bisogna seguire la stessa procedura di prima nel senso che prima una volta che il nostro parotanafi è in fcc diciamo che il disagio è che ogni volta bisogna disattivare il gps e mettere in modalità aereo il telefono decollare poi riattivare il gps questi purtroppo per ios è rimasto ancora diciamo questa serie di passaggi da fare e poi bisogna comunque avere un dispositivo android per portare in fcc il parotanafi un po poi come succede anche per il mavicare secondo me quella più semplice anche con il mavicare è comunque farlo con un dispositivo android quindi ragazzi ricapitoliamo le cose importanti sono che una volta che avete portato in fcc come al solito lo spegnete rimane in fcc disinstallate mi raccomando completamente il free fly 6 che avete installato fino a quel momento fate quel passaggio sul play store dove andate a disattivare sicurezza protezione quello che vi ho fatto vedere prima disattivate quello installate la free fly 6 nuova dal link che vi lascio in descrizione e via da quel momento in poi siete sempre in fcc senza dover disattivare ogni volta il gps a oggi questa questa applicazione modificata funziona quindi ragazzi il video finisce qua mi raccomando iscrivetevi al canale telegram offerte se vi va seguitemi su instagram e iscrivetevi a questo canale se non l'avete ancora fatto lasciate un grosso pollice su servito vi è piaciuto e ci vediamo ovviamente ragazzi nei prossimi video ciao ciao